Se guardiamo al mercato interno, dobbiamo davvero proteggere i fondamentali dell'economia e del mercato unico. Il mercato unico è la forza di questa Unione Europea ed è qui che viene creata la ricchezza dell'Unione Europea. Senza una soluzione europea comune rischiamo la frammentazione. Se ogni Paese membro fa di testa sua, arriviamo a una frammentazione che non vogliamo e dobbiamo contrastarla. E quindi è di somma importanza mantenere parità di condizioni all'interno del mercato interno.